Bene, il silenzio è già calato, quindi mi sembra che ci sia la giusta tensione. Intanto benvenuti a tutti, siete veramente in tanti davanti allo specchio di Alice, cercheremo di non annoiarvi. Io sono Fabio Candussio, mi hanno dato il compito di aprire, di chiudere e di tenere il filo rosso di questo viaggio che sarà un po' favola, ma sarà molto realtà. Passerei subito la parola a Fabiano Benedetti, che è CEO e presidente di Beantec, che ci introduce un po' a questa giornata. Grazie mille. Grazie, benvenuti a tutti. Devo dire che è stato un grande successo questo evento, almeno per ora, speriamo anche poi verso la fine. Abbiamo dovuto purtroppo rifiutare alcune richieste di appuntamento perché abbiamo riempito la sala e quindi mi dispiace per quelli che non hanno potuto vedere questo evento, speriamo di farne un'edizione più avanti. Quindi comunque grazie a voi per essere qua oggi. Intanto le slide, dopo le... eccolo, perfetto. Intanto io mi presento, sono Fabiano Benedetti, sono CEO e President di Beantec. Beantec è un'azienda che opera nel mondo della digital transformation. Ci occupiamo di portare valore attraverso l'IT alle aziende, alle nostre parti, ai nostri clienti. Siamo nati nel 2001, contiamo circa 85 persone, abbiamo un'età media molto bassa, a parte io che sparo molto in alto rispetto alla media, e abbiamo diversi clienti, li abbiamo in tutto il mondo, l'anno scorso abbiamo chiuso il fatturato con 7 milioni e mezzo. Noi siamo questi, noi non abbiamo asset tangibili come capannoni, mezzi, macchinari, noi abbiamo persone e questi sono i nostri collaboratori con cui noi facciamo il nostro percorso, con cui siamo arrivati fino qua e che ringraziamo sempre per quello che ci danno ogni giorno e per quello che fanno per permetterci poi di raggiungere il business che stiamo portando avanti. Lavoriamo in 5 aree di business, una è quella delle infrastrutture, ci occupiamo di dare soluzioni end to end alle aziende per i loro sistemi informativi, quindi data center, networking, sicurezza informatica, abbiamo un team di sviluppatori che si occupa di sviluppo software sia custom che per prodotti nostri che rivendiamo, un'area che si occupa di business analytics, quindi analisi del dato, analytics, big data, è tutto quello che è l'inside che si può ottenere dai dati, e nel 2015 abbiamo introdotto una nuova divisione per il CRM, Customer Relationship Management, insieme al nostro partner Microsoft, e nel 2016 abbiamo introdotto l'area che è la cosiddetta industry, che si occupa di Internet of Things, raccolta dati dal campo, per poi trasformarli in valore di business per i nostri clienti, e che ci sta dando grandi soddisfazioni. Operiamo su due sedi, la sede principale è a Udine e poi abbiamo una sede anche a Padova, e per noi Padova è una piazza molto importante, abbiamo appena iniziato a collaborare con l'università, che oggi è un co-partner, co-organizzatore di questa bellissima iniziativa, e con cui intenderemo fare un lungo percorso insieme. Cosa è che facciamo noi? Giusto per lo spiego, magari anche visto che la platea è abbastanza aterogenea, noi ci poniamo come, a parte della parolona, digital enabler, come motore di trasformazione tra quelli che sono le grandi tecnologie, le tecnologie mondiali, le più importanti al mondo, quelle più best of breed rispetto a quello che è il mercato di riferimento, con dei vendor internazionali che ci accompagnano, non sono casuali, questi sono i tre più importanti con cui lavoriamo, cioè Microsoft, Nvidia e Dell'EMC. Mettiamo insieme quella che è la ricerca e sviluppo locale con le università più importanti sul territorio, e da questi due fattori in input, noi, attraverso la nostra forza lavoro, il nostro motore di trasformazione, portiamo i nostri partner, i nostri clienti, del valore di business. Questo è un modello che sembra scontato, ma di fatto non lo è, ed è quello che ci ha permesso di arrivare fin qui oggi, ed è quello che continueremo a fare da qui in avanti. ed è il motivo che ha scatenato l'organizzazione di questo evento, perché di quello che oggi noi facciamo, che vi abbiamo descritto alla slide precedente, oggi aggiungiamo delle tecnologie nuove, che sono quelle dell'intelligenza artificiale, oggi parleremo di machine learning e deep learning, attraverso persone che ne capiscono molto, molto più di me, però noi cerchiamo di interpretare questi segnali, e di portarli poi nel business. e questo perché, qui poi è così una battuta, questa non è la Silicon Valley, è piuttosto la Manufacturing Valley, cioè fatta di aziende, il nord-est produttivo, peroso, che produce impianti, macchinari, servizi, che però oggi sempre di più dovrà avere a che fare con questo tipo di tecnologia, anche perché se non coglieremo questo treno che sta passando, e sfrutteremo queste tecnologie al vantaggio di queste aziende, probabilmente il nord-est perderà anche la leadership che oggi ha sul mercato, di essere uno dei leader, delle zone leader al mondo, per quanto riguarda proprio la produzione di impianti e macchinari. Vado subito ai ringraziamenti, ai partner che ci hanno accompagnato in questo evento, innanzitutto Nvidia, che oggi qui è presente con l'ingegnere Francesco Torricelli, che ringrazio di essere venuto, ha fatto un evento a Londra, giusto dove? A Londra, per venire qua, quindi con un viaggio della speranza, però la ringrazio di essere qua oggi, che poi porterà i saluti di Nvidia, e descriverà un po' cos'è Nvidia, io non la so fare a lui, Nvidia per noi è un partner importantissimo, noi siamo partner preferred, abbiamo ottenuto due certificazioni importanti, una è sulla GPU virtualization, quindi virtualizzazione delle GPU, che poi descriverà bene Francesco di cosa si tratta, e l'altra è quella sul deep learning, due partner in Italia, che possono contare queste certificazioni, per cui noi siamo orgogliosi e fieri di poter lavorare con uno dei partner, oggi più importanti, in questa che è la trasformazione che sta avvenendo. L'altro è Dell'EMC, è un partner per noi importante, con cui lavoriamo dal 2011, e che ringrazio, oggi purtroppo doveva essere qui, Gian Paolo Mischi, che è il direttore commerciale dell'EMC, ma per altri motivi di impegni, in altri luoghi non ha potuto partecipare, e quindi io porto i suoi saluti, e faccio anche una breve introduzione, una breve presentazione di chi è Dell'EMC, perché visto che comunque è nostro partner, e ha collaborato per l'organizzazione di questo evento, ci tengo a descrivere brevemente cosa fa. Questo è un po' il portfolio delle soluzioni, che oggi il gruppo Dell, che sta sotto il cappello Dell Technologies, offre a partner come noi, o all'azienda e clienti, che comprende client, che comprende la parte infrastrutture, con Dell'EMC, e altre soluzioni per la sicurezza, come RSA SecureWorks, oppure soluzioni per servizi cloud, come Virtustream e Pivotal, e VMware, che penso che molti di voi conoscono, che è leader nella soluzione di Hypervisor, che fa parte del gruppo Dell Technologies. Tutto questo, con i building blocks che abbiamo visto nella slide precedente, Dell ha questa visione, cioè quella di connettere il mondo di tutti gli oggetti, che si diventano sempre più connessi, di tutti i tipi di oggetti, dalla telecamera, dal robot, allo smartphone, a sensori, e tutto quello che sta succedendo, con una soluzione Edge, che raccoglie questi dati, vengono elaborati nel core, e poi vengono finiti di elaborare nel cloud, ed infine distribuiti attraverso il cloud. Questa è un po' la visione di Dell, io non mi dilungo molto, per chi poi fosse interessato, ci sono anche i miei colleghi, che possono descrivermi nel dettaglio, e poi queste soluzioni. Voglio ringraziare Partner Novalia, che è qui rappresentato da Fabio Candussio, Fabio Candussio è Senior Partner di Novalia, Senior tra qualche giorno 50, ho visto sul, adesso lo sanno tutti, molto Senior, e nonché è professore dell'Università di Udine, ci lega un'amicizia, e anche una condivisione di obiettivi, che vanno oltre il business, ma comunque siamo qui anche per il business, quindi con Novalia abbiamo intrattenuto, abbiamo iniziato un rapporto di collaborazione strategico, per la crescita di Beantech, e per avere una visione chiara, di quello che è il futuro della nostra azienda. Mi dimentico, non vorrei dimenticarmi qualcuno. I partner istituzionali, oggi li ho messi tutti in una slide, che poi comunque si presenteranno da soli, ringrazio l'Università di Padova, che è qui rappresentata dal prolettore, l'ingegnere Alessandro, il professore Alessandro Sperduti, dal professore Alessandro Beghi, del HIT, che poi spiegherà a lui di cosa si tratta. Ringrazio Confindustria Veneto, che è rappresentata da Gianni Potti, che è delegato all'industria 4.0, e Fondazione Comunica e Digital Meet, che sono i contenitori che ci hanno oggi ospitato in questa bellissima location, e che poi vedremo per il Digital Meet di ottobre, c'è una sorpresa che dirò poi alla fine del mio intervento. Ringrazio Telefriuli, che è venuta, grazie a Alessandra per essere qua, che ci accompagna in questi bellissimi eventi, e poi i miei collaboratori, tutte le ragazze del marketing che hanno permesso la realizzazione di questo evento, Daniele Fornasier, che è un nostro collaboratore, che parlerà poi dopo di me, e ovviamente a tutti voi che siete venuti così numerosi. Un ringraziamento speciale al nostro special guest, il professor Pietro Perona, e per lui ci sarà poi alla fine una piccola sorpresa, quindi dopo la fine di tutto ci sarà una piccola sorpresa per lui. Ecco, io volevo solo completare due messaggi, uno è, noi stiamo approntando la nostra Academy, si chiama Know Now, quindi Sapere Ora, che ha come obiettivo quello di promuovere queste tecnologie, di portarle nelle aziende, nei nostri collaboratori che già lavorano in Beantech, e anche nei futuri collaboratori, e cioè per esempio a neolaureati che vogliono perfezionare un percorso per avvicinarsi al mondo del lavoro, su temi legati alla tecnologia, quindi anche questi, l'utilizzo artificiale, ma anche sul CRM, sugli sviluppi, sull'analisi del dato. Abbiamo dei corsi, e quindi vi invito ad andare a guardare sul nostro sito, sui social, per vedere quali sono questi corsi. Un'altra informazione degna di nota, è che all'ingresso dovreste aver ricevuto un flyer con la presentazione di una summer school, che noi organizzeremo a Udine dal 2 al 6 luglio, in collaborazione con l'Università di Udine, con il DTEDI e con R Science Park, che ha come obiettivo quello di promuovere proprio il machine learning e il deep learning nel territorio. Ci saranno una quindicina di ricercatori che arrivano da tutto il mondo, si sono iscritti veramente da tutto il mondo, e ci sono gli ultimi posti per le aziende, ci saranno 15 aziende e 15 ricercatori, mancano pochissimi posti, sono disponibili per le aziende, le iscrizioni sono aperte fino al 15 di giugno, quindi questo è uno spot pubblicitario per invitarvi, se qualcuno è interessato, andare a vedere sul sito di Beantec, o su quello di DTEDI, o su quello di R Science Park, per trovare lì le informazioni che servono per potersi iscrivere. Noi abbiamo costantemente posizioni aperte, quindi vi invito, visto che ho visto qua in platea diversi studenti, quando sarete laureati, o anche prima se volete fare per esempio dei tirocini o delle tesi di laurea, a vedere le nostre posizioni aperte sul nostro sito, e a vedere un po' tutti i nostri social per comunicazioni che possono riguardarvi. In particolare, c'è una comunicazione che ve lo riassumo velocemente perché non vorrei dimenticarmi, oggi noi qui lanceremo un contest, cioè una gara, che sarà riservata a due gruppi, uno per gli studenti e uno per le start-up, che avrà come obiettivo quello di, noi vi daremo un dataset di immagini, e voi dovete classificarle. Ovviamente ci sarà un premio, il premio considera una Workstation Alienware con una scheda NVIDIA T100, che quindi sarà poi utilizzata per fare a casa, per chi è appassionato, questi tipi di simulazione. Il contest si apriera verso fine giugno, quindi a maggior ragione tenetevi aggiornati su quelli che sono i nostri canali di comunicazione, perché lì troverete tutte le informazioni necessarie per iscrivervi al contest, e poi per ricevere il materiale per poter fare le prove. A ottobre i vincitori delle due categorie, il vincitore per le start-up e il vincitore per gli studenti, saranno premiati in occasione del Digital Meet, e questo troverete poi informazioni, oltre che sul sito di Beantec, anche nel sito di HIT, dell'Università di Padova, e del Digital Meet, quindi stay tuned e andate a guardare. Io intanto do la parola a Fabio per la continuazione, io poi vi saluterò alla fine, buon evento. Bene, adesso è importante, è stato già annunciato da Fabiano, anche un saluto da parte di Gianni Potti, come delegato di Confindustria Veneto, per la 4.0, e per altre deleghe che riguardano la ricerca e l'innovazione. Buonasera, buonasera a tutti, due saluti veloci, non posso non farli, al professor Sperduti e Alessandro Beghi, e con loro l'Università di Padova, che ci ospita quest'oggi. Fabiano Benedetti, che ha avuto l'idea di questa grande iniziativa sull'intelligenza artificiale, e ovviamente a Piero Perona, che parlando con lui poc'anzi, io ho un ricordo in questa sala, forse qualcuno c'era anche quel giorno, quando a ottobre dell'anno scorso, terminammo il Digital Meet con Federico Faggin, quindi in qualche modo, ritrovo gli stessi canoni, con l'aggravante, che mi diceva il professor Perona, che forse è venuto a Padova a un seminario, qualcosa, una decina d'anni fa, ma in questi 25-30 anni, è un'occasione veramente preziosa, quella che abbiamo oggi, di averlo qui a Padova, quindi gli farei veramente un grande applauso. Detto ciò, una battuta velocissima sull'intelligenza artificiale. Ovviamente, allora, i rappresentanti dei mass media, giornali, televisioni che sono in sala, rappresentano spesso l'intelligenza artificiale, con il tema di macchine che conquisteranno il mondo, la robotica, piuttosto che l'affiancano al tema dei posti di lavoro, che si possono perdere, questo è successo anche oggi, in qualche intervista fatta dal professor Perona, e questo è normale, che nell'opinione pubblica passi questo messaggio. Sicuramente, non mi nascondo, che ci sono degli aspetti potenzialmente negativi, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Butto lì, così lancio qualche provocazione. Per esempio, il fatto di delegare le decisioni umane agli algoritmi, questo è un tema, sicuramente. Un altro rischio è la manipolazione, tra virgolette, degli esseri umani, da parte degli algoritmi stessi. La profilazione, che in teoria è una bella cosa, ti potrebbe prendere dalla culla, e portarti anche, magari, a essere più che schedato in tutti i passaggi della tua vita. E poi c'è il grande tema della legislazione, che servirà, e qui la legislazione anche europea e italiana, intorno a questi argomenti, andrà fatta da persone assolutamente competenti. Questa è già una richiesta che facciamo, perché in base a come verranno fatte la legislazione, si vedranno poi a noi tutti le pratiche e attuazioni. Ho buttato lì tre provocazioni negative, ma quante sono le opportunità, invece, positive dell'intelligenza artificiale? Pensate, per esempio, per vivere meglio, per il benessere, sul tema della medicina, nel campo della medicina, su diagnosi, sulla lettura di big data, che possono dare letture rapidissime di fenomeni, che altrimenti erano difficilmente catalogabili. E, per non parlare della gestione della complessità, che so gestire grandi sistemi complessi, le città, le famose smart city, che in Italia non sono mai decollate, ma resta comunque una grande chimera per noi. Oppure, fare molte più cose, a costi molto più bassi. Bene, io sono tra quelli che credono fortemente, però lo giro ai relatori più illustri di me, che questa rivoluzione, questa digital transformation, alla fine, creerà più posti di lavoro di quelli che c'erano prima. Ogni rivoluzione ha un suo prezzo, un prezzo sociale, lo stiamo anche in parte vivendo, ma bisogna avere fiducia nel futuro, e fra qualche anno, quando faremo il saldo attivo, sarà sicuramente un saldo attivo. Però, non dobbiamo dimenticarci una cosa, benissimo quello che su Industria 4.0, sul digitale, dicono i tedeschi, quindi, noi stiamo seguendo questo piano di Industria 4.0, anche come Confindustria, l'Industria 4.0 serve per efficientare i sistemi, per risparmiare, e questo è un aspetto. Ma, io voglio introdurvi, e lo giro a Piero Perona in particolare, questa domanda. Dicono i nostri amici giapponesi, che hanno un sistema di PMI, molto più vicino a quello nostro, italiano, ma perché abbiamo fatto, e stiamo facendo, questa grande digital transformation? Solo per risparmiare, efficientare i sistemi, ci sono due eccellenti argomenti, ma non basta. Questa digital transformation, deve portare a vivere meglio noi tutti, ogni persona, che in questa sala, deve poter vivere meglio, utilizzare il digitale, per migliorare le nostre vite, e le nostre città, le famose smart city. Ecco, con questo auspicio, vi ringrazio, e buon dibattito. Preannunciato prima, abbiamo con noi anche il professor Alessandro Sperduti, che è professore di informatica, professore di dipartimento di matematica, e anche prolettore, con delega ai sistemi informativi. Delegato. Ok, perfetto. Allora, grazie per essere qui, come padrone di casa, in questa splendida struttura, che è l'orto botanico, che coniuga la tradizione dell'orto antico, con, come potete aver intravisto, arrivando, l'innovazione, della nuova struttura, che è veramente bella. Quindi, benvenuti, grazie per essere qui. Io sono sì, delegato dei sistemi informativi dell'Ateneo, però sono anche membro del famoso HIT, quindi Human Inspired Technology Research Center, che è un centro di ricerca interdipartimentale, e che ha l'uomo come centro, per quanto riguarda lo studio delle varie tecnologie. Per cui, l'intelligenza artificiale, cosa meglio di questo può essere? Rappresenta al meglio gli interessi del centro. Non mi dilungo molto, perché sono sicuro che siete ansiosi, siete venuti qui, soprattutto per ascoltare i relatori, in particolare il professor Perona, che è un alunno dell'Università di Padova, quindi si è laureato qui a Padova, per cui benissimo, benvenuto, bentornato qui a Padova, e quindi a questo punto, Potti già, diciamo, parlato dei risvolti negativi, che l'intelligenza artificiale può avere, i relatori invece vi parleranno di quelli che sono gli aspetti positivi, quindi speriamo che quelli positivi, appunto, siano prevalenti rispetto a quelli negativi. Grazie, e buon divertimento.